2000 video su viaggio vero comincio col dirti che ti ho mentito ma mi serviva per la copertina barra il titolo clickbait insomma non sono 2000 questo video che stai vedendo è il numero 1941 non siamo ancora 2000 ma all'interno ci sono dentro live ci sono dentro i short i trailer dei vari video insomma 1941 video quasi 2000 a 2000 ci arriverò fra un paio di mesi ma questo video lo volevo fare per raccontarti 10 cose fondamentali che ho imparato registrando così tanti video soprattutto negli ultimi tre anni mi ci sono buttato a testa bassa e come sai ad oggi 2024 fine 2024 abbiamo un palinsesto che copre sei giorni su sette dal 2025 potrebbero diventare sette su sette ma adesso vediamo comunque 1941 video quasi 2000 video sul canale youtube di viaggio vero che cosa ho imparato perché lo faccio perché può aiutare qualcuno che magari ha un'idea di sbarcare su youtube con anche argomenti diversi rispetto al viaggio anche se sei qui su un canale di viaggio e appunto sono consigli sono errori sono passaggi fondamentali che ho fatto e che mi hanno permesso di creare qualcosa di valore che che dia valore che sia valore che sia valore per me come lavoro ma che dia valore a te come utente e membro della community bando alle ciance come si suol dire e andiamo a vedere queste dieci lezioni dieci cose che ho imparato dopo aver registrato quasi 2000 video 1941 per l'esattezza uno hai un'idea inizia a registrare fregatene della qualità finale non sto dicendo che non si deve sentire nulla o si deve sentire un casino incredibile mentre registri ma al giorno d'oggi chiunque abbia un telefono normale ha la possibilità di registrare video con un cavalletto da 5 euro e un suono un audio che si capisca è chiaro se mi registri con un telefono senza nessun tipo di microfono cuffia eccetera in mezzo alla folla non si sentirà nulla ma questo lo sai anche se ti registri un video per te fa schifo ok quindi non pensare troppo alla qualità pensa alla tua idea a ciò che stai dicendo se hai un'idea comincia a registrare comincia a registrare questi video li caricherai poi anche tutti insieme ma comincia a registrare questi video è inutile che aspetti di avere queste luci da 200 euro questa camera da 400 euro questo microfono da 300 euro non serve a nulla io per anni ho registrato con strumenti di basso prezzo economicissimi quindi comincia a registrare se hai un'idea cosa numero due lezione numero due la banalità non esiste tutto può essere utile chi ti dice che quello che vuoi fare è banale sta sparando un'enorme stronzata qualunque idea anche se ti sembra la più banale può aiutare persone se io mi fossi fermato a dire ma chi è che non sa fare un cecchino online ma chi è che non sa fare una valigia beh io ora non sarei qui ora non sarei qui chi è che non sa leggere uno schermo in un aeroporto chi è che non sa cosa fare quando vai in aeroporto insomma se io mi fossi fermato ad alcuni commenti che sono arrivati ma veramente ma davvero hai fatto questo video e qui c'è qualcuno che non lo sa ma che banalità non avrei fatto nulla non avrei registrato non avrei creato viaggio vero non esiste la banalità cosa numero tre la lezione numero tre è epica fondamentale la community è il vero motore di tutto ciò che stai facendo è inutile che ci giriamo intorno se non hai una community non hai nulla in mano la community è l'unica cosa che conta ci saranno altre cose altre lezioni di questo video in cui la community tornerà forte ma comincia a mentalizzare il fatto che la community è l'unico vero motore di tutto facciamo un paragone hai un'auto meravigliosa ti sei comprato una mercedes un bmw una porsche hai risparmiato tutta la vita e te la la lezione cosa numero quattro è che i numeri sono molto relativi se pensi che qui su youtube guadagnino e vivano soltanto persone che hanno 300 mila 500 mila 800 mila un milione di follower di iscritti al canale beh stai sbagliando alla grande io sono molto più piccolo questo è il mio lavoro principale dal 2022 2023 alla grande 2024 ancora di più alla grande questo è il mio lavoro principale faccio dell'altro ma perché lo voglio fare potrei vivere con viaggio vero potrei vivere con questo canale con gli iscritti che ho nel momento attuale novembre 2024 sono 52 mila e ci vivo tranquillamente ecco si lavora tanto ma ci vivo tranquillamente non è che non si lavora per cui i numeri sono relativi se dai valore se dai utilità se stai attento a tutte quelle cose e alle lezioni che ti dico e anche a tante altre che non ti dico oggi beh a quel punto il tuo canale può diventare un canale sostenibile e che ti permetta di vivere in maniera etica anche con pochi iscritti io conosco addirittura canali con 10 12 mila iscritti canali di nicchia che vivono alla grande forse guadagnano anche toggo forse guadagnano anche molto più di me legato a questo il numero 5 legato a questo la cosa numero 5 scendi a compromessi per guadagnare qualcosina più velocemente no diventerà il tuo problema maggiore nel momento in cui cominci a avere qualcuno nella community ripeto anche poche migliaia di iscritti a quel punto arriveranno aziende arriveranno aziende che ti chiederanno di collaborare all'inizio arriveranno per forza aziende che vanno a cercare nella massa gioco d'azzardo criptovalute pinki pinki pallini vari che non c'entrano magari nulla con l'argomento di cui stai parlando scendi a compromessi perché quella sponsorizzazione la potresti comunque inserire da qualche parte no ragiona un attimo fermati e fate questa domanda se io fossi un utente che trova questo canale e lo trovo utile per l'argomento che ha se vedessi che il creator realizza un video inserisce appunto questa cosa un po fuori un po tirata ne sarei contento ne sarei contenta mi piacerebbe ancora lo seguirei ancora cosa penserei se le risposte a queste domande sono ti stridono ovvero poteva non farlo beh non lo fare non scendere a compromessi i soldi arriveranno le collaborazioni di valore con realtà che sono assolutamente in tema con il tuo argomento e che possono davvero aiutare le persone arriveranno non ti preoccupare non scendere a compromessi diventeranno sempre comunque un problema se non al momento hai preso quei pochi spicci brutti cattivi e subito ma diventeranno un problema molto maggiore li rimpiangerai garantito sono assicurato con il mondo per tutti i miei viaggi ormai dal 2018 io ho l'assicurazione multiviaggio annuale che mi copre però con il mondo puoi avere anche assicurazioni per viaggi singoli assicurazioni annullamento assicurazioni per viaggi a lunga permanenza e come dicevamo assicurazioni multiviaggio annuale quella che ho io e la cosa bellissima è che per tutta la nostra community per me ma anche per tutta la nostra community abbiamo ottenuto dai mondo lo sconto del 10 per cento su qualsiasi prodotto andrai ad acquistare qualunque delle assicurazioni che dicevamo prima non serve inserire codici o altro devi solo entrare attraverso il link che trovi qui sotto in descrizione e che trovi in tutti i video del canale youtube di viaggio vero una volta entrato vedrai già dalla banda in alto sul sito di e il mondo che lo sconto è stato applicato a questo punto perché ho scelto e amo e il mondo come assicurazione di viaggio semplicissimo per tre motivi numero uno perché non devo anticipare soldi in caso di problemi e se abbatti la franchigia con pochi euro beh a quel punto davvero non tiri fuori nemmeno un euro numero due perché hanno un'app chiara e semplicissima da utilizzare per contattarli in caso di problemi in italiano numero tre non meno importante perché tutti i loro prodotti sono chiari sotto tutti gli aspetti so da subito quante e quali sono le coperture e decido io se aumentarle o meno a questo punto entra con il link che trovi qui sotto in descrizione e che trovi in tutti i miei video qui sul canale youtube prova a fare un preventivo vedi che c'è il 10 per cento di sconto e non prenderti rischi stupidi viaggia con l'assicurazione sempre anche in europa fuori dall'italia anche in europa sempre 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 inoltre abbiamo uno sconto del 10 per cento cosa stai aspettando andiamo con il secondo blocco la cosa lezione numero 6 io imparo in maniera costante da voi dalla community da chi vede i miei video voi non sapete quante cose mi avete insegnato è un dare e avere è uno scambio continuo è inutile che ci giriamo intorno se un creator se qualcuno che ha un canale su youtube non capisce che ciò che crea deve essere uno scambio non potrà mai andare avanti voi mi avete dato tanti consigli di video che poi hanno spaccato voi mi avete detto di controllare delle cose che mi ero perso io sono uno di voi io sono insieme a voi l'unica differenza è che sono qui a fare questo lavoro a mettere insieme i pezzi ma senza di voi che siete la mia community questo non esisterebbe senza capire che io imparo costantemente ogni giorno dell'anno dai miei iscritti siete la mia formazione primaria lezione cosa numero 7 contenuti lunghi contenuti corti sono prolisso non lo sono questo dipende da te dipende da ognuno di noi siamo diversi ognuna delle persone che si approccia ai miei video mi trova in un modo vuole un contenuto corto io non sono da contenuti corti dipende da te è chiaro che il contenuto lungo è fatto per regalare qualcosa di più importante il contenuto breve è di per sé un contenuto estemporaneo il contenuto lungo nel tempo può regalare molta molta più soddisfazione sia al creator che a chi guarda il video più sei dettagliato dettagliata più spieghi anche a costo di sembrare banale prolisso a me almeno 10 15 volte in un anno sono poche sì ma sono 10 15 volte in un anno qualcuno mi dice sei troppo prolisso puoi accorciare la cosa e io gli rispondo no non accorcio la cosa non perché abbia un ego smisurato in piaccia sentire la mia voce che mi fa schifo ma perché a fronte di 10 15 persone che mi dicono questo ci sono migliaia decine e decine decine di migliaia di persone che invece mi ringraziano per essere stato così puntiglioso così dettagliato e questa è l'unica cosa per me importante per cui io ho trovato questo format a me piace stare in questo format essere prolisso essere dettagliato e dare tutti i possibili passaggi quando creo qualcosa e consiglio qualcosa ma poi dipende da te ripeto il contenuto lungo comunque a lungo termine scusa gioco di parole ti dà molte più soddisfazioni e anche tecnicamente ha una vita molto molto più lunga cosa parla lezione numero 8 meglio seguire le tue richieste la richiesta della community piuttosto che seguire le mie voglie è un errore che ho fatto spesso e volentieri quello di realizzare video su temi argomenti che piacevano a me non che abbia smesso di farli però diciamo che ne faccio meno ci sono degli argomenti che a me interessano tantissimo ma che magari sono meno meno molto meno gettonati e molto meno di interesse generale per il pubblico di viaggio vero per te per la mia community e quindi se voglio vivere di questo lavoro se voglio dare più utilità possibile devo ogni giorno ascoltarti devo ogni giorno valutare le tue richieste e quindi alla lunga ho capito che seguire le tue richieste è sempre meglio che seguire le mie voglie lezione consiglio numero 9 non considerarsi mai arrivati mettersi sempre in discussione cercare di capire sempre che non si è mai non si è mai raggiunto la perfezione la perfezione non esiste si commettono una marea di errori possono essere errori tecnici di registrazione posso possiamo sempre migliorare a livello tecnico nel momento in cui abbiamo i budget per farlo possiamo sempre migliorare a livello di contenuto possiamo sempre migliorare a livello di eloquio di spiegazione possiamo sempre migliorare nell'approccio che abbiamo con la community però il punto è anche se raggiungi due milioni di utenti non sei arrivato non sei arrivata non sei ancora nessuno è una cosa che dovrebbe essere incisa nella testa nel cervello di chiunque i grandi atleti i grandi personaggi dello sport faccio un esempio se vivono con questa convinzione anche se sono là sull'olimpo e ci stanno per anni continuano a starci perché hanno questa convinzione nel momento in cui ti senti appagato appagata e il tuo ego fa quel salto e dice ma io sono diventato quello che sono è finita la discesa improvvisa il precipizio è lì che si sta aprendo non siamo mai arrivati io non sono mai arrivato non ho non sono neanche a un decimo di quello che voglio diventare ultimo consiglio lezione numero 10 rispondo a tutti rispondere a tutti qualsiasi commento arrivi tranne che sia spam o altro rispondere a tutti concedersi alle persone giuste cosa intendo rispondere a tutti anche se ci sono degli insulti mai rispondere con un insulto rispondere a però a tutti cercare di spiegare che se tu mi stai insultando forse questo canale non è per te non sto lì a dirti che hai fatto comunque il tuo perché mi hai fatto guadagnare soldi stando a vedere il video e poi commentandolo in quel modo mi stai facendo guadagnare soldi youtube non differisce tra commenti positivi e negativi io guadagno soldi comunque da come tu commenti e a volte rispondo e cerco di di parlare con questi hater ce n'è uno in particolare ogni tanto salta fuori ogni due tre mesi e cerca di colpirmi l'ultima volta l'ho anche un po stordito nel senso che è arrivato insultandomi pesantemente dopo mesi che non lo sentivo su un video e gli ho detto sorridendo mamma mia era tanto che non ti sentivo come stai spero tu stia bene ma lo dicevo veramente e lui è rimasto un attimo lì non sapeva più cosa fare non sapeva più cosa dire ha cominciato una discussione si sto bene tu come stai cioè completamente fuori di testa non insultava più ma dopo ha ricominciato ma ha fatto fatica perché non trovava più le parole dei suoi odi quando qualcuno gli risponde in maniera normale in maniera serena gli chiede addirittura come sta ecco tranne lo spam più estremo o personaggi che passano insultano e se ne vanno e non meritano il tuo tempo rispondere a tutti però importantissimo concedersi alle persone giuste il che non significa che siano persone che ti devono pagare devono essere abbonati o altro concedersi nel senso dare tempo dare davvero del tempo quindi fare delle ricerche per rispondere al meglio se fanno una domanda che ha un senso come domanda concedersi alle persone dare valore oltre che al video dare valore anche nei commenti non per tutti ma per tantissimi per quelli che si approcciano nella maniera giusta ecco questo è fondamentale è una lezione che ho imparato se non rispondi a tutti non esisterà lato community lato community rimarrà quella non crescerà non evolverà non diventerà ciò che è ora la community di viaggio vero e ciò che sarà ancora di più nel tempo con questo concluso video piuttosto personale diciamo però secondo me sono lezioni consigli cose che se hai una mezza intenzione di fare qualcosa online che sia un canale youtube che sia qualsiasi altra cosa potrebbero tornarti utili perché sono lezioni senza tempo senza tempo allora a questo punto se sei arrivato qui un pollice verso l'alto me lo merito e aiuta a crescere questa community ti ringrazio grazie 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 se vuoi iscriverti se non sei ancora iscritto iscritta il pulsante qui sotto l'iscrizione è completamente gratuita se clicchi anche sulla campanella riceverai anche le notifiche ai nuovi video che usciranno che sono spesso e volentieri diverso da questi e parlano e ti danno consigli di viaggio e qui a fianco stanno passando però altri due video che parlano sì di consigli di viaggio ma non solo